Buonasera anche all'altra amica che ha detto sito sito buonasera Buonasera Poi con questi passaggi corti corti mi vuoi fare il pacco? E come ti posso fare un po' di te? Buonasera, sette livelli Stavolta c'erano sei No, negativi un po' Sicuramente un po' di vicino E mo' la fame non è che mi aiuto tanto E dove sei? Dove sei chiedere se non faccio quest'arma a fare? Scusa qua e fermare Qua c'è una miglia d'arma che c'è il cuore E gli posti ne conosco tutti qua eh Chi sei? Vi devo rincrasciare la verità eh Come mi devi rincrasciare? Amore Angelo Trottolio, nemmeno tu mi sembri cambio Angelo Eh sto cercando di mettere molto il computer No, lascia stare, che a me si è rotto, lascia stare da finire che il suo computer si rompe Eh ma non ho capito chi sei eh Ma scusa la moto versione non la conosci te La cosa? La moto versione dico, non la conosci Sì Eh io la moto versione è amica Però, come? Sto un po' confuso Fa pure un po' parte di te, io eh C'è qualcosa che è tuo diciamo La portante? La portante? La portante, la portante Eh 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 Orca miseria E dove stai mo? A Tarenzano sto Ciao A Tarenzano sto A Tarenzano sto